Il bilancio annuale dei movimenti iscrizione e cancellazione non d'ufficio dal registro delle imprese mostra che il sistema retino nel 2016 perde lo slancio che aveva caratterizzato il 2015 chiudendo l'anno con un saldo positivo di 12 imprese in più rispetto allo scorso anno il rallentamento è derivato dalla concomitante diminuzione delle nuove iscrizioni e la crescita del 6,7 per cento delle cessazioni non d'ufficio nel corso del 2016 è cresciuto rispetto all'anno precedente il numero delle imprese cancellate d'ufficio 189 contro 54 a fine anno la consistenza delle imprese registrate in provincia di Arezzo è di 45.447 unità tra le forme societarie continua l'avanzata delle società di capitale nel 2016 sono cresciute di 252 unità arrivando a toccare a fine anno 9.642 imprese stabili le altre forme societarie costituite in larga parte da cooperative in diminuzione le imprese individuali meno 135 unità che a fine anno si sono attestate a 20.376 unità in flessione dello 0,8 per cento prosegue la flessione registrata ormai da alcuni anni sia nel manifatturiero meno 1 per cento che nelle costruzioni meno 1,5 per cento all'interno del manifatturiero oltre segni negativi ad esempio nelle industrie tessili dell'abbigliamento delle pelletterie delle calzature c'è da registrare anche un meno 1 per cento nell'industria del legno la sostanziale stabilità imprenditoriale non trova conferma dal punto di vista occupazionale gli addetti complessivi delle imprese con sede in provincia di Arezzo sono in diminuzione dello 0,4 per cento rispetto a fine 2015 anche i livelli occupazionali dell'artigianato sono caratterizzati da un andamento negativo nel 2016 figuravano 28.626 addetti in flessione del 2,4 per cento rispetto alla fine del 2015